Ciao a tutti, sono Don Fabrizio e questo è Babology, in diretta, senza musica, senza effetti, perché non riesco a capire come si faccia per mettere gli effetti in sottofondo e non in primo piano, che coprano la mia voce o che disturbino. Va bene, scusate anche il raffreddore, come sentite, tiro su col naso come un moccioso qualunque. Ciao a tutti, sono a Sant'Agnello, a due passi da Sorrento, e davanti a me si estende il Golfo di Napoli, su questa strada che porta verso la stazione, vado a prendere il treno per andare insieme ai miei compagni di viaggio a Napoli. Dopo due tentativi falliti, questo è il terzo per una live veloce di saluto, di auguri, anche se alla fine ho scritto gli auguri alle persone che volevo raggiungere e molte altre, le vedrò nei prossimi giorni, dicono che fino alla fine di gennaio ci si possa augurare buon anno. Sarebbe bello augurarsi sempre buone cose ogni volta. C'era la mia nonna che diceva tante cose quando si salutava, tante cose, perché sono tante le cose nella vita, sono tante le cose che facciamo, che sogniamo, che progettiamo, e allora è anche giusto così, fare tante cose e viverle bene. Allora, in questo tempo di ferie e di vacanze, sto apprezzando moltissimo la compagnia di un piccolo gruppo di amici, è da tanto tempo che non mi muovo in pochi, anche se l'abbiamo vissuta un po' come pellegrinaggio, la scoperta dei testimoni, degli luoghi, anche della fede di questi posti. In realtà abbiamo un po' il profumo dei vacanzieri, questa cosa è bella e mancava un po'. La lascio in me, la lascio la vivo. Uno degli auspici del 2020 che mi sono dato è quello di vivere bene le cose che mi capitano, senza tante sovrastrutture, senza pensarci troppo, senza vivere con ansia le cose che capitano. Allora, che cosa abbiamo fatto in questi giorni? Siamo arrivati lunedì, qui a Sorrento, abbiamo fatto quattro passe, abbiamo girato un po' per la cittadina splendida. Prima di venire qui siamo stati alla regia di Caserta, ai suoi giardini, poi siamo stati il giorno successivo, martedì, in Costiera Amalfitana, Positano e Amalfi, meravigliose, che meraviglia, bellissime, specialmente Positano, che ha riservato una bella passeggiata sportiva, su e giù per queste scalette, ma assolutamente meravigliosa. Poi siamo stati a Salerno, a Salerno abbiamo visto le luci, abbiamo visto la gente, popolarsi, è stato anche questo molto bello, molto molto bello. Abbiamo visto Pompei ieri, grazie all'appoggio di un amico prete, Don Ivan, abbiamo visitato e conosciuto la storia di quel santuario così importante e così poco longevo, cioè è un santuario recente, è un santuario che ha 150 anni di vita, circa, eppure così significativo, tanto da essere santuario d'Italia, monumento alla pace, un luogo straordinario. Poi ci siamo tuffati nel labirinto di strade di Napoli e lo faremo ancora oggi. Napoli è uno shock, bellissima e decadente, piena di gente, eppure con tanti angoli intimi, quasi loschi, quasi bui, un po' nascosti, a pochi passi dalle bancarelle illuminate, dalle musiche, dalle voci, e dagli odori di dolci, di fritto, che ti invadono. Chiese monumentali, splendide, e chiesette piccole, piene di cose, piene di barocco, anche di disordine, ma quel disordine che dice tante storie. Dicevamo già a Pompei, insieme a Don Ivan, ogni oggetto che viene portato dentro una chiesa prima di essere pregevole in sé, è una storia di una famiglia, di una persona, di una vita che si consacra, che si consegna, che si affida, e quindi un'opera d'arte, un'opera d'arte anche nel più umile dei fazzoletti ricamati. E' bello, è bello pensarla così. Fa fresco, eppure non freddo, perché in standard a cui sono abituato direi che è quasi una primavera, non dico anticipata, ma un primo albore di primavera, e per questo mi sono raffreddato un po', perché ho osato mettere una maglia più sottile ieri, c'era vento, eppure dentro sento caldo, una bella pace, una bella situazione, una bella sensazione. E' bello, è bello camminare, è bello scoprire, è bello conoscere, ho voglia di tornare a casa, ho voglia di tornare a casa, in questi giorni con i giovani con cui siamo qui e ragioniamo su qualche progetto, su qualche iniziativa, anche cosa a correggere, perché dopo quattro anni che stai a lavorare in un posto, probabilmente alcune cose le stai facendo un po' per routine, o un po' per, come dire, malizia, per mestiere, ecco. Mi spiego meglio. Dopo un po' sai che una cosa la sai fare bene, e la fai, senza pensarci troppo. E quel, senza pensarci troppo, alla fine ti rovina. Vorrei che, insomma, in qualche modo il ritorno a casa fosse contemporaneo a una ripresa, a iniziare di nuovo. Dicevo ieri nella diretta, che poi ho cancellato perché si sentiva malissimo, che è una convenzione decidere che il primo gennaio inizia un anno nuovo. Il mondo e la Terra, le galassie e l'universo procedono con i loro ritmi incessantemente da milioni di anni. Ma noi abbiamo deciso che, ad alcune date, diamo questa importanza. per ricordarci, pronti via, che cos'è che dice a dieci corridori, partite tutti insieme, il colpo di pistola di un arbitro. Ecco, il primo gennaio l'arbitro che ci spara in aria un colpo per dire sveglia, parti, vai, fai qualcosa, rinnovati. Non possiamo dire di vivere veramente se non è un continuo rinnovarci, un continuo rinascere, un continuo riprenderci, un continuo risorgere. E allora dai, ad alcune cose magari daremo una veste nuova, proveremo a far tesoro delle piccole o grandi sfide raccolte durante l'autunno insieme ai giovani. Ho in mente un paio di cose anche per i giovani più grandi, quelli che da qualche anno camminano e si sentono giustamente un po' sfruttati da noi preti perché quando diventi grande cominci a guardare ai più piccoli, invece quando diventi grande sei grande e anche le tue domande sono grandi, quindi è ora di curarsi di te e poi via. Vediamo le cose che nasceranno, le seguiremo, le accompagneremo e le supporteremo. Per ora è così e auguro a tutti ancora un buon inizio, una buona ripresa, un buon risorgimento. Ciao.